A esattamente due mesi dall'addio di Marina Lui, l'undicesimo municipio nomina un nuovo assessore alla scuola. Il terzo, dato che la Lui aveva già sostituito Cettina Caruso, che aveva a sua volta mollato per motivi personali. Maria Rosaria Porfido, 59 anni, nata a Taranto, prende in mano scuola, sport, cultura, turismo e pari opportunità. Una scelta che però fa storcere il naso alle opposizioni, che si dichiarano, però senza pregiudizi, e le augurano buon lavoro. La neo-assessora, che sarebbe stata scelta tra circa 30 candidati, è la moglie di Salvatore Serra, importante attivista del Movimento 5 Stelle dell'Arvalia.